Un caro saluto ai nostri telespettatori, benvenuti al consueto spazio dedicato all'informazione di Puglia TV che apriamo con le anticipazioni di cronaca, operazione d'indagine senza precedenti della polizia stradale denominata Ghost Car, oltre 10.000 veicoli con intensazione fittizia radiati dalla circolazione su tutto il territorio nazionale. I prestanome dell'analisi dei risultati conseguiti sono disoccupati imprenditori apparenti o indigenti che in cambio di pochi euro si intestano automobili e moto di fatto utilizzate da soggetti di etnia dell'est Europa, rom albanesi e nord africani. Dietro di loro ci sono organizzazioni criminali che usano i veicoli per i più diversi motivi illeciti. In Puglia sono stati individuati 275 veicoli utilizzati per le intestazioni fittizie ed identificati 4 persone quali fittizie intestatari, tra cui un brindisino di 56 anni pregiudicato per l'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette, intestatario di 229 veicoli e un quarantenne di fasano tossicodipendente, intestatario di 16 veicoli. E' ancora un incendio le cui case sono ancora da chiarire. Ha distrutto la notte scorsa 10 vetture parcheggiate nell'autosalone class auto di Benvenuto Cosimo Capuano, 47 anni, in via Brindisi nella zona artigianale di Francavilla Fontana. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale compagnia per eseguire il sopralluogo e fare chiarezza sulla natura del rogo. Non sarebbero stati trovati chiari segni riconducibili al dolo. Lì nella regia c'è la pubblicità, vi aspetto in studio con tutte le altre notizie. Grazie. 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 Grazie.